Siamo con Matteo Mana, un fan produs del mondo boccistico nazionale e sicuramente anche mondiale. 16 anni, classe 1998, viene da Centallo, gioca per squadre del Cunese. Chi e che cosa ti ha avvicinato al mondo delle bocce, Matteo? Fin da subito mio papà giocava a bocce, quindi io e mio fratello da più piccoli lo seguivamo. Il mondo delle bocce ci ha sempre appassionato, quindi io e mio fratello siamo cresciuti insieme. L'unico allenatore fondamentale è stato mio papà, in seguito Basilio Marco. Matteo, la tua rincorsa è quasi unica e ripetibile. Ti è venuta di natura oppure hai dovuto fare degli allenamenti? No, la mia rincorsa è naturale. La prima volta che ho avuto una boccia in mano ho subito iniziato a bocciare così. Direi che mi trovo bene, quindi ogni tanto bisogna cambiare qualcosa, però la mia è sempre quella. Ho ritrovato un vecchio amico, non perché lui sia vecchio, ma un amico di vecchia data. E' Piero Amerio, neocommissario tecnico delle squadre nazionali. Intanto ti faccio i miei complimenti. Matteo è uno dei molti giovani che tu hai a disposizione. Direi di sì, Matteo è uno dei molti giovani. Lui è un giocatore che ha dimostrato di avere completezza in tutti i ruoli, sia nel tradizionale ma anche nelle prove alternative. Qui a questi campionati del mondo è impiegato nel tradizionale, dove svolgerà due prove. L'individuale che richiede completezza, come ho appena detto, sia nel tiro che nell'accosto. E nella coppia dove sarà il tiratore insieme a Stefano Zucca, che è un altro, diciamo, giovane di talento. È un talento un po' raro, si può dire, di questi tempi, ossia quello dell'accostatore. Perché si sa che i giovani sono molto attirati dal tiro più che dall'accosto. E Stefano invece è uno dei pochi che ha proprio il senso del punto. Speriamo che il vantaggio di giocare in casa si traduca poi proprio nei fatti. Altri giovani che abbiamo a disposizione sono Simone Ariaudo, che sarà impiegato nella prova di combinato, dove è lì, mi ripeto, ma la completezza è d'obbligo, perché si sa che bisogna per forza entrare in un cerchio per fare punti. Ed è un altro giovane con un carattere, direi, adatto a questo scopo, perché è molto calmo, riflessivo. E questo per quanto riguarda gli Under-18. Poi c'è la prova altamente spettacolare degli Under-23. Gli Under-23 in questo turno di campionato, perché si sa che i Under-18 e i Under-23 alternano una volta gli uni, una volta gli altri, fanno le prove alternative veloci. E quest'anno tocca i 23. Ci sarà il progressivo, dove c'è Simone Mana, fratello di Matteo, un grande specialista di questa prova, tant'è che è stato ingaggiato e arruolato dalla squadra più forte d'Italia, che è la BRB. Per adesso sta facendo molto bene, si è classificato già nei primi quattro, speriamo possa andare avanti. E insieme a Simone Carru, prodotto locale, si dovrà destreggiare anche nella staffetta. Simone Carru, un ragazzo con un carattere incredibile, che si allena a una serie età e incommiabili, tant'è che questo gli ha permesso di vincere il campionato di Serie B con la sua squadra e quindi di raggiungere la promozione in Serie A. E questo speriamo che possa essere per lui, oltre che al fatto di giocare in casa, di stimolo per fare molto bene. Il terzo Under 23 è un Veneto Doc, Giacomo Orbellese, con uno stile fantastico, un braccio d'altri tempi, adatto per svolgere proprio il tiro di precisione. Per lui non è facile, perché in tutta la settimana svolgere solo il tiro di precisione, è una prova in cui bisogna essere concentrati al massimo e svolgere solo questa, però speriamo che ce la possa fare. Lui si sta mantenendo in costante allenamento. Lui si sta mantenendo in costante allenamento. Lui si sta mantenendo in costante allenamento.